Per il tuo evento particolare diverso dal solito, festa privata o festa in piazza, non hai mai pensato alla fantastica idea di organizzare una bella serata con l'artista napoletano, Paolo Benuti Live in concerto, vuoi dire chiamo alla tua dolce metà in modo davvero speciale, organizza una serata sconvolgente con l'artista napoletano, Paolo Benuti Live in concerto, regalati e regala una mega serata che renderà un'Italia, indimenticabile l'emozione del tuo evento, informazioni e prenotazioni eventi, contatta i seguenti numeri, agenzia, spettacoli, Senn Music, Enzo, 3, 2, 8, 6, 6, 1, 5, 8, 4, 2, agente, 1, 3, 8, 8, 5, 9, 1, 5, 1, 5, 8.